buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 22 febbraio 2022 il sole sorge alle 6 e 55 possiamo dire che sta sorgendo in questo momento e tramonterà alle 17 e 47 oggi si festeggia un evento particolare non abbiamo un santo preciso ma abbiamo un evento ovvero la cattedra di san pietro apostolo e la consegna delle chiavi tu sei pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa a te darò le chiavi del regno dei cieli aveva detto gesù al primo degli apostoli tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli e tutto ciò che scioglierai nella terra sarà sciolto anche nei cieli è il primato di pietro quello che si festeggia appunto nella giornata di oggi pietro primo papa la sua cattedra simbolica era chiusa in quella bellissima scenografia che è stata realizzata dal bernini in san pietro custodita dai dottori della chiesa e come poi non menzionare il bellissimo quadro di guidoreni che era a san pietro in valle a fano nella la pala d'altare maggiore che è stata poi portata via dai francesi quando sono arrivati in città alla fine del 1700 e ora si trova nel corridoio nella galleria centrale del louvre una galleria piena di capolavori dove la gente passa magari guarda distrattamente un quadro o l'altro e anche la consegna delle chiavi di guidoreni di fano a louvre viene guardata un po con sufficienza in realtà è un capolavoro veramente molto molto bello che se tornasse al suo posto avrebbe il giusto rilievo e la giusta rinomanza ma così va la vita e vediamo ora le notizie che ci dicono che ci propongono i giornali passando però per le previsioni del tempo la situazione meteorologica è in evoluzione nubi irregolari nella notte con residue piogge sull'ascolano segue un rapido miglioramento dal mattino con cieli sereni ovunque sulle coste i venti spireranno da nord ovest nell'interno ugualmente da nord ovest le temperature sono in calo e varieranno dai 5 gradi per quanto riguarda la minima ai 10 gradi per quanto riguarda la massima ed ora diamo un'occhiata ai giornali partendo dal resto del carlino questa è la pagina di fano dove si evidenzia ma si evidenzia un po anche nell'altro giornale ovvero nel corriere adriatico la notizia più importante quella che afferma che è stato trovato l'accordo per la posizione della centralina al del lido non più dunque in via dello squero ma il nuovo posto sarebbe nella zona centrale del lido nei pressi dei bagni pubblici vediamo qui la fotografia appunto dei bagni pubblici vicino a piazzale a mendola insieme ai due assessori che si sono occupati del problema ovvero l'assessore ai lavori pubblici fabbio latonelli e l'assessore all'arredo urbano barbara brunori scampato dunque il pericolo per la via dello squero la cabina elettrica per il funzionamento della vasca di raccolta delle acque di piazzale a mendola ma è una cabina che servirà anche di implementare il fabbisogno di di soddisfare diciamo meglio il fabbisogno di energia di tutto il quartiere del lido sarà installata nello spazio verde dietro i bagni pubblici alle spalle della cavea non c'è ancora l'ufficialità ma il sito sembra andare bene sia al comune sia ai tecnici dell'ener e non dovrebbe creare disturbo né ai residenti né agli esercenti quindi è un posto abbastanza fattibile insomma siamo nel limbo ovviamente dove la si pone questa cabina si provoca un certo impatto ma in realtà questo è un impatto il minimo possibile contro manifestazione sul ddl zan 5 a giudizio lo scorso giugno a sassonia si sovrapposero le iniziative delle sentinelli in piedi e di un gruppo non autorizzato ecco perché appunto si va a giudizio una bella pagina scritta da silvano clappis per quanto riguarda il suo escursus tra i personaggi fanesi è dedicata a massimo pagnoni ovvero a rosa della cecca massimo pagnoni è più noto con questo nomignolo che identifica un suo personaggio particolare un personaggio femminile che ha un grande successo con il san costanzo show pagnoni una carriera nel nome della rosa l'attore fanese è divenuto popolarissimo con il personaggio della bidella di solfanuccio apre le porte della sua casa al porto appunto apre le porte al giornalista e parla di se stesso ebbene pagnoni cominciò ad interessarsi del teatro ad appassionarsi del teatro fin da piccolo fin dall'età di 14 anni si escrisse all'accademia antoniana d'arte drammatica di bologna poi andò anche a roma e lavorò con diverse compagnie finché tornò a fano e fece le sue prime esperienze nella nostra città sul palcoscenico del politeama insieme al teatro dialettale la polena il suo esordio fu con la storia emilia uno dei successi appunto del gruppo di cultura popolare la polena nel 1991 fresco del diploma dopo aver vinto il premio nazionale vanda capodaglio per giovani attori si è trasferito appunto a roma e poi è tornato ed ora con rosa della cecca spopola in tutti i teatri della nostra regione dobbiamo dire ma è un personaggio popolare che meriterebbe anche una più ampia risonanza ed ora parliamo di politica perché oggi c'è consiglio comunale a fano ma c'è anche un problema politico da risolvere ovvero la crisi di giunta maggioranza sull'orlo della crisi pontieri al lavoro per spegnere appunto il fuoco che arde tra le diverse fazioni si punta alla modifica della mozione sul no alla fusione tra as e demarche multiservizi che potrebbe provocare una grossa spaccatura in maggioranza oggi è in discussione questa mozione che è firmata da un esponente del partito democratico da un esponente della lista civica in comune e dal movimento 5 stelle quindi c'è anche un movimento di opposizione che firma con la maggioranza l'obiettivo è far sì che le liste del sindaco si astengano in modo da non provocare veramente un terremoto il sindaco ha chiesto al partito democratico e in comune il ritiro del documento ricevento però un fermo no quindi questi partiti insistono perché si tagli la testa al toro e si dica ormai completamente no ad una fusione della dell'asset con marche multiservizi e qui abbiamo un caso di crona che invece a centro pagina l'odissea di un fanese per riavere i figli condannata la ex che li portò via ebbene la ex avere la ex moglie una 35enne di origini campane aveva abbandonato il marito conoscendo un napoletano sui social e poi era fuggita portando con sé i figli l'uomo si era rivolto al tribunale aveva ottenuto l'affidamento esclusivo dei suoi bambini era dato addirittura a scampia in un contesto molto pericoloso per riprendersi tra le minacce appunto dei residenti ne aveva era riuscito a portarselo via uno poi alla fine ha avuto anche l'altro e la donna è stata condannata in giudizio a un anno e otto mesi per sottrazione di minori e in ottemperanza all'ordine appunto del giudice cade passeggiando in centro risarcita dal comune nove anni dopo è una ragazza che ha ottenuto 5.000 euro di risarcimento dal comune a causa delle buche insomma che costellano un po' la pavimentazione di molte vie della città in questo caso lei era caduto ha ottenuto questo risarcimento si era rotta anche una caviglia sembra si era fratturata una caviglia a causa di un'insidia stradale ovvero un avvallamento che non si vedeva alla vista ma poi mettendoci il piede sopra insomma si storceva la gamba e appunto è accaduto questo infortunio 20 milioni in paglio barchi sogna il jackpot l'ex comune che ora appartiene a terre roveresche è uno dei tredici che concorre al maxi finanziamento del pnrr per riqualificare i borghi storici terre roveresche appunto è uno dei comuni in gara gli altri due sono monte grimano terme e monbaroccio terre roveresche ha mandato la propria proposta di di qualificazione ed è in lizza per conquistare 20 milioni di euro stanziati per le marche dal piano nazionale borghi previsto dal pnrr veramente il il comune ci spera per avere questi soldi per qualificare l'immagine appunto del proprio del proprio borgo storico e in fondo a pagina abbiamo le cause della morte di simone tommassetti il 45enne di sant'ipolito che è morto sabato dopo essersi capotato con la sua fiat idea in un terreno agricolo a margine della provinciale che collega schiepe a vergineto l'ispezione cadaverica ha confermato che il decesso è stato causato da traumi provocati dal fuoristrada ovvero da traumi alla testa e al torace vediamo la pagina di urbino la straducale in città una città in fermento tutte le novità è stato annunciato anche un'altra gara la raffaello gravel dunque due iniziative sportive importanti per la città ducale il presidente fedri gucci è entusiasta arriveranno visibilità e turisti il presidente fredri gucci è il presidente della straducale del ciclo ducale la ciclo ducale ha infatti confermato che la straducale del 2022 verrà realizzata il 12 giugno e farà parte del gran circuito marche entrando anche nel challenge allè che raccoglie le 12 gran fondo più importanti d'italia e poi abbiamo quest'altra iniziativa ovvero la raffaello gravel mtb e sarà su due circuiti e si gareggerà il 18 settembre in collaborazione con la tenuta santi giacomo e filippo e aura rele nuova realtà a monte soffio di urbino due sport due gare sportive non solo importanti dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista turistico perché poi attireranno molti visitatori documento unico di programmazione urbino e montefeltro ci asterremo e in vista del consiglio comunale di giovedì urbino e il montefeltro annuncia che si asterrà al momento di votare l'aggiornamento del documento unico di programmazione che sarà presentato dal sindaco urbino e il montefeltro ovviamente è una forza politica che anima la città ducale e vediamo ora le pagine di pesaro qui abbiamo uno scempio tra virgolette ambientale così viene definito dagli ambientalisti compiuti sugli argine del foglia tagliati centinaia di alberi lungo il foglia i permessi ci sono ma lo scempio è fatto il consorzio di bonifica serve per la sicurezza idraulica l'argine deve essere libero ambientalisti intanto si mobilitano un disastro di carattere ecologico è un disastro che viene denunciato anche da italia nostra che denuncia tutto ai carabinieri è stato presentato un esposto ai forestali e al noi il nucleo dei carabinieri la presidente federica tesini la vediamo qui in una foto dice altro che lavoro selettivo sembra ci sia passato attila faranno una ciclabile e punto in interrogativo insomma è un interrogativo che sa un punto di ironia troppe restrizioni così rischia anche pasqua le richieste dei titolari degli alberghi in vista della riportenza primaverile dobbiamo poter competere con gli altri paesi europei insomma ormai si guarda con fiducia all'arrivo della primavera ma soprattutto l'arrivo dell'estate quando la pandemia dovrebbe diminuire di molto la sua aggressività la data zero riferita alla scadenza dell'ultima proroga dello stato di emergenza che è prevista lo sappiamo per il 31 marzo è sempre più vicina il suo arrivo rappresenta soprattutto per il settore del turismo la speranza di una ripresa e di una ripartenza sostanziale di tutto quell'ambito che da due anni a questa parte soffre di una crisi profonda ovvero l'ambito della ricettività dell'accoglienza turistica non portano la mascherina ffp2 scolaretti alla porta e qui c'è una decisione di una preside di una scuola primaria che impone la mascherina dopo un caso positivo di un bambino alle scuole materne i genitori protestano e la denunciano caos a monte labate chiedevano di far entrare i figli in classe senza la mascherina ma la preside li ha lasciati fuori della porta dell'istituto è scoppiato così il caos ieri mattina davanti alla scuola elementare di monte labate dove la dirigente ha vietato l'ingresso a 14 alunni e i genitori si sono ribellati chiamando appunto le forze dell'ordine ma ovviamente la dirigente interpretava la normativa in vigore invece qui abbiamo sempre un ristorante fanese che si è distinto per il non volere insomma aderire alla normativa in vigore si tratta del ristorante la quercia di sant'andrea in villis che è al centro dell'attenzione per il green pass infatti il proprietario del locale cristian marinelli non chiede alla clientela per proprio una sua decisione personale e per le teorie di natura costituzionale non chiede alla clientela il green pass e questo gli è costato già diverse multe per i controlli ricorrenti a cui è stato sottoposto il nuovo caso si riferisce ad alcuni avvocati che erano nel ristorante c'erano andati perché sapevano che lì il green pass non veniva richiesto però sono arrivati è arrivata la polizia locale la polizia di stato che ha fatto la multa sia a quelli che ha trovato alcuni poi sono fuggiti ora vengono ricercati fuggiti sono andati via e anche al proprietario del locale avvocati non passi in pizzeria multati tre di loro è il titolare ricci non molla la rambla resta in agenda progetto fattibile prenderemo il mutuo e bene dopo che la c dopo che svanita la cifra è legata agli oneri di urbanizzazione del bramante il comune di pesaro ricorrerà alla cassa depositi e prestiti per realizzare questa bella passeggiata che da piazza del popolo dovrebbe arrivare fino alla palla del fino alla palla di pomodoro passando sotto la statale adriatica sotto via della reput via sotto viale della vittoria insomma dove passa appunto il dove passa la statale adriatica e nel contesto urbano una bella iniziativa che il comune vuole realizzare a tutti i costi e quindi si ricorrerà con le risorse che sono a disposizione si prenderà un mutuo arretramento della ferrovia la rfi annuncia i lavori sembra ancora un miraggio sembra impossibile che questo provvedimento possa attuarsi in realtà che cosa è accaduto è accaduto che ieri l'amministratore delegato di rfi la rete ferroviaria italiana che si chiama vera fiorani ha annunciato alla commissione trasporti della camera dei deputati che sono in programma lavori per l'arretramento non dice di pesaro ma della costa adriatica della linea che passa sulla costa adriatica perché si risparmierebbero 30 minuti ai treni che da lecce arriveranno a bologna insomma un intervento che sembra che cominci a configurarsi secondo un aspetto reale pragmatico esecutivo e speriamo che sia veramente così ladra ma con il reddito di cittadinanza il giudice glielo revoca una giovane donna arrestata dopo il furto di gioielli per 3.000 euro aveva però anche gli aiuti statali ed ora passiamo al corriere adriatico passando per la pagina di fano dove vediamo che si apre ugualmente con la centralina con il posizionamento della centralina al lido si deve valutare l'interramento ma l'ipotesi nuova e sostenibile afferma il giornale sopralluogo favorevole nell'area dei bagni pubblici sollevati i residenti di via dello squelo che ora possono veramente fare un sospiro di sollievo disabili inseriti nei settori agricolo e ricettivo grazie appunto a open house lab una sinergia tra pubblico e privato per l'inserimento dei disabili un inserimento lavorativo e poi ecco l'articolo di politica stoppa le operazioni non in house si vota confronto in giunta forti pressioni del partito democratico alle ore 18 di oggi seduta decisiva del consiglio comunale per il sindaco la via di fuga è la terza opzione qual è la terza opzione la via di fuga potrebbe essere il recupero della collaborazione di marche e multi servizi alla prossima gara del gas questa terza opzione però è già stata rifiutata da tv roli che è l'amministratore delegato appunto di marche multi servizi ma il nuovo scenario che si è determinato potrebbe suggerire ora una risposta diversa insomma si potrebbe cambiare anche idea per quanto riguarda questa collaborazione la regione ora sblocca i problemi storici di fano forza italia esalta gli investimenti e l'opera di aguzzi ovviamente soddisfazioni di forza italia fanese per quanto la la regione investe sulla città di fano e abbiamo la le scogliere dalla foce dell'arzilla a fosso sei ore i lavori del consolidamento dell'argine del fiume metauro nei pressi di tombaccia i 4 milioni di euro per quanto riguarda le scogliere di metauriglia e poi ancora gli investimenti sull'ospedaletto sull'ospedale santa croce insomma dei problemi annosi che sembra giungano a risoluzione a fossombrone il tartufo bianchetto attira un turismo internazionale cristini dell'accademia si tratta di giuseppe cristini narratore del gusto e della bellezza sommelier professionista e direttore artistico dell'accademia del tartufo del bianchetto soprattutto esalta le potenzialità del prodotto naturale del cesane per quanto riguarda la sua forza di attrazione di tipo turistico e poi una bella vincita una bella vincita a sant'ippolito 20 mila euro al 10 e l'otto la fortuna a riso sabato a un avventore di passaggio al minimarket di sant'ippolito e qui abbiamo il titolare dell'esercizio cristian rosatelli con al centro la mamma donatella il babbo ornando che mostra il cartello della vincita 20 mila euro non sono né tanti né pochi però insomma una bella vincita e vediamo anche senigallia abbiamo una nuova palazzina dell'emergenza a cui è stato dato un finanziamento di 16 milioni di euro dalla regione tanto quanto all'ospedale santa croce di fano si tratta di un importante realizzazione la palazzina dell'emergenza un gioiello tecnologico da realizzare con le tecniche di costruzione più moderne volte a garantire la continuità dei servizi ai cittadini e ai turisti anche in casi estremi come gli eventi sismici e delle calamità naturali l'iniziativa è stata presentata dall'assessore regionale francesco baldelli un totale di 16 milioni di euro per una struttura che sarà al servizio della sesta città delle marche insomma ma non solo e vediamo anche le pagine di pesaro sul corriere adriatico si parla di rifiuti e della realizzazione di eco isole automatiche per il centro storico una sperimentazione frutto di un accordo tra comune e marche multi servizi contro il problema dei rifiuti in strada dell'abbandono dei rifiuti in strada si tratta di una sperimentazione che insisterà su un quadrato del centro ben preciso dove verranno posizionate delle eco isole automatizzate in grado di tracciare in maniera puntuale il conferito tutto quanto viene conferito accessibili solo con una tessera sanitaria e quindi sarà ben organizzato questo servizio e poi si parla anche degli incivili della spazzatura un lancio di rifiuti addirittura dalle finestre. Ora via i malati in barella Marche Nord allestisce i posti letto hobby nei riparti ovvero l'osservazione breve in tutto saranno 22 6 previsti a medicina d'urgenza pronto soccorso da alleggerire per quanto riguarda lo stazionamento di malati addirittura in barella e le unità operative devono essere in grado di ricoverare ogni giorno 24 pazienti. Sono le riforme i primi provvedimenti assunti dal nuovo responsabile del pronto soccorso di Marche Nord Giancarlo Titolo incaricato di guidare il reparto fino alla individuazione del nuovo primario tramite il concorso. E poi qui l'articolo delle due donne che sono state sorprese mentre rubavano soldi e preziosi in un'abitazione sono state arrestate. Il giudice ha convalidato il provvedimento. Una percepiva addirittura il reddito di cittadinanza. E poi sono state rimesse in libertà. Perché? Perché o hanno dei bambini oppure addirittura una era incinta. Spariscono tir e tonnellate di plastica. Un bottino da 100.000 euro diviso in due. Nei guai sono finiti i complici che hanno tentato di piazzare sul mercato 220 quintali di poliamide. Che cos'è la poliamide? È una sostanza sintetica che spesso è molto più conosciuta sotto il nome di nylon. Insomma una fibra sintetica che in grande quantità ha un certo valore. bretella di muraglia si insedia il cantiere delimitata l'area mentre un viavai di grossi camion porta attrezzature e mezzi. È stata completata la parte affidata a marche multiservizi per lo spostamento dell'acquedotto romano. E noi terminiamo la nostra rassegna stampa con questa notizia. Poi ovviamente ce ne sono tante altre sui giornali questa mattina che vi invito a leggere e quindi vi invito a comprare anche i quotidiani. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Intanto vi auguro buona giornata.